Mi aspetto dall'Europa una maggiore solidarietà, figure politiche autorevoli, chiaramente mi riferisco anche al mio paese che finalmente dovrebbe averne qualcuno in più da oggi in poi, ma l'auguro vivamente per tutti noi, non solo per gli europei, ma anche per noi ovviamente italiani e mi auguro che le politiche rigorose, disciplinate, un'economia e uno scambio culturale vivaci, ma l'economia deve essere tenuta molto sotto controllo e ristabilire secondo me un equilibrio giusto, perché secondo me siamo andati oltre il capitalismo, è stata una degenerazione del capitalismo quella che è avvenuta negli ultimi due anni, quindi figure buone ce ne abbiamo, adesso speriamo di averne anche una noi, ma soprattutto gli scambi interculturali sono molto molto importanti, perché io che viaggio abbastanza vedo tanti ragazzi in gamba e insomma mi piacerebbe vedere un flusso di ragazzi di altre nazioni qua e i nostri ragazzi in altre nazioni per imparare, per avere dei centri di eccellenza. Grazie a tutti.